Il virus ha fermato la festa civile ma non il fervore pratolano per la Madonna della Libera. La risposta a flash mob è stata corale. Balconi e terrazze tutte addobbati per la titolare e per il drone che ha immortalato la cittadina dall'alto. Le immagini serviranno per creare la cornice ideale alla diretta televisiva dell'esposizione della Madonna dei riti liturgici di sabato mattina che saranno trasmessi alle ore 10 su Onda TV. Nel video alcuni momenti del flash mob di questa mattina che ha coinvolto l'intera popolazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il passaggio del drone su Pratola ha avuto un successo clamoroso. Per problemi tecnici abbiamo dovuto sospendere le riprese per oggi. Ma non vi preoccupate, le zone di Pratola ancora non toccate dal passaggio del drone saranno interessate da domani alle ore 14.